In 30 secondi di quarto, all'arresta del Pana con Gassi Cavicchi che provano a dare penetrazione, mi trova un bigolice con Matisse! Cosa ha fatto? Signori, questo è un spettacolo, ha sfruttato troppo bene il mismatch Mike Matisse ed è di 11 di nuovo a Pana di Nykos, pochi secondi della Puente, non entra!